ecma 2021 anche tecnologia e comunicazione siamo allo stand you clear con christian occhi pinti che ci racconta una novità molto interessante vai christian ciao a tutti eccoci allo stand di you clear per parlare di interfone you clear si affaccia per il primo anno nel mercato italiano abbiamo diversi prodotti che si suddividono per fasce di prezzo e tecnologia diciamo che dal nostro fiorell'occhiello è il dynamesh che permette di parlare moto con moto non con una catena ma uniti contemporaneamente affinché poi il motociclista se uno di gruppo si allontana non si debba rimacciare tutto il gruppo per poter parlare tutti insieme qui stiamo parlando del motion infiniti che ha la possibilità di parlare con più infiniti motociclisti hanno un reggio di moto con moto di 700 metri quindi aumentando diventa la distanza immensa in più questa la possibilità di essere collegato a un telefono cellulare via bluetooth o al sistema di comunicazioni che qualsiasi moto possono avere il vantaggio poi tecnico e intelligente soprattutto per chi utilizza un casco oggetto modulare è la possibilità di avere gli auricolari incorporati nel microfono funziona benissimo testati da me personalmente su caschi jet caschi modulari caschi integrali e il suono sia in uscita che in entrata che quindi come vengono ricevute la parola è sempre perfetta in alta definizione la distribuzione è già cominciata abbiamo cominciato a consegnarlo in tutta italia per avere informazioni chiamate guardate il sito you clear e contattateci per sapere dove trovare grazie a tutti ciao buona fiera